Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori di Italian Time Zone, il podcast per imparare italiano con la storia. Sono Giulia e oggi voglio darvi un brevissimo annuncio per comunicarvi che in occasione della Festa della Repubblica Italiana lo scorso 2 giugno 2023 sono stata invitata a parlare in diretta su YouTube dalla Scuola Italiano Oggi di Agostina Ganami. Con questo breve annuncio voglio invitarvi ad andare a vedere la lezione gratuita sulla Festa della Repubblica che trovate sul canale YouTube di Italiano Oggi e sul mio sito italiantimezone.com e vi lascio il link in descrizione a questo episodio. In questa lezione gratuita andiamo a fare il punto della situazione proprio sul 2 giugno, quindi sulla Festa della Repubblica Italiana e andiamo a rispondere ad alcune domande. Prima fra tutte, come si arriva al 2 giugno 1946? Facciamo praticamente un riassunto di più di cent'anni di storia in cui andiamo un po' a capire quello che è stato il processo di trasformazione politica dell'Italia. prima dell'unità, dopo l'unità, durante il fascismo e poi appunto con le elezioni del 1946 alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo a parlare di elezioni, quindi per che cosa si vota quel 2 giugno 1946? Solo il referendum, monarchia, repubblica o anche qualcos'altro? Parliamo anche del ruolo delle donne in queste elezioni del 1946. Vediamo poi qual è il significato del 2 giugno e infine vi lasciamo come sempre dei materiali di approfondimento. Non puoi quindi perderti questa lezione gratuita di storia e di politica italiana se sei appassionata e appassionato di questo podcast Italian Time Zone. Ripeto, io sono stata chiamata come esperta per fare una lezione di storia live. È stata un'esperienza meravigliosa e ringrazio tantissimo la mia carissima amica e collega Agus di Italiano Oggi per questa occasione meravigliosa. Vi ricordo il link è in descrizione e se avete qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Noi ci sentiamo presto con un nuovo episodio del podcast dedicato alla regina Margherita. Ciao, alla prossima!